Valerio Vestoso, ho 24 anni, vengo da Benevento e nella vita sono un regista di videoclip e spot. Talenti in corto l'ho conosciuto attraverso il web, attraverso i giornali di settore che ne parlavano con una certa frequenza. Hai avuto abbastanza tempo per scrivere qualcosa con calma, hai fatto tutto di fretta? All'inizio avevo ipotizzato tempi più distesi, poi alla fine mi sono ridotto agli ultimissimi giorni sotto Natale. Secondo me il punto di forza è il grottesco e la leggerezza, la leggerezza con cui viene trattato un atteggiamento abbastanza desueto da parte dei protagonisti. Spero che sia andata positivamente con la giuria, abbiamo visto un po' di lavori miei precedenti, abbiamo parlato sulle varie ipotesi di regia riguardanti la storia. Poi abbiamo interlocuito su possibili strade di sceneggiatura anche da poter modificare. Spesso e volentieri sono io che scrivo tutto ciò che dirigo, però mi è capitato anche il contrario, cioè appunto di condividere quella bellissima fase della scrittura con altre persone. Devo dire che è molto stimolante.